buonasera a tutti e a tutti allora come vedete sono ancora diciamo nell'enfasi della festa del del napoli con questa immagine grazie naturali della schiena e la sciarpa dell'altra sera che ho messo qui sul tavolino della scrivania quindi volevo leggere però con voi a parte anche anche questo è questo qualcosa sulla questione dell'emilia romagna e questo quindi sull'unità è riuscito anche l'unità dal 16 di maggio voglio leggere con voi l'articolo di ermetere alaci noto ambientalista che dice dopo l'emilia romagna alibi finiti la politica deve occuparsi del clima a pagina 8 quindi pagina 8 un'unità ci sono anche altri articoli e diciamo molto importanti è fatto bene nonostante sanzonetti insomma abbia dei difetti però questo giornale forse gli riuscirà secondo me ci si mette di impegno insomma nella vita bisogna anche mettersi di impegno e non solo mettersi per soldi comunque emilia romagna parla ermetere alaci nessuno innocente non c'è futuro senza grinne assurdo continuare a negare il cambiamento climatico invece di investire sulla manutenzione il governo butta 14 miliardi per i ponte ma sull'ambiente la politica latita anche il pd ora deve darsi un'agenda vera perché questo emilia romagna i fiumi continuano a desondare il numero delle vittime aumenta tutto il paese si interroga sull'alluvione e più in generale sulle politiche ambientali abbiamo parlato con emmete lalaci già leader di lega ambiente parlamentare del partito democratico infatti primo filmatore della legge sugli ecoreati attualmente presidente di simbola fondazione per la qualità italiana da sempre una sorta di grillo parlante nell'italia che trascura le politiche green presidente cosa c'è dietro all'alluvione in emilia romagna c'è stato un cambiamento piuttosto disposto tra un vero cambiamento climatico tronamento climatico estremo e una gestione territorio spesso trascurata un combinato disposto tra queste due cose questa vicenda ci fa capire che bisogna cambiare rotta anche se di solito in italia il problema viene affrontato solo durante l'emergenza per poi essere rimosso fino al prossimo trauma questo è importante insomma dovrebbe da sottolineare diciamo se fossimo a scuola ma adesso intensificarsi di questi cioè il problema viene affrontato solo durante l'emergenza ma adesso intensificarsi di questi eventi drammatici richiede una risposta diversa sia sul fronte dell'emergenza climatica sia sul fronte della gestione del territorio secondo bonaccini in pochi giorni in alcune parti di romagna è precipitata l'acqua di un anno intero cosa sta succedendo i fenomeni climatici estremi si stanno moltiplicando ed è assurdo che qualcuno lo neghi purtroppo con un sistema delle informazioni che sovraespone le piccolissime minoranze della comunità scientifica bisognerebbe fare una gerarchia perché le fake news esistono davvero ma come si fa a negare che gli acciai stanno arretrando anche un ragazzino delle elementari se ne accorge siamo quindi in piena crisi climatica ci sono in atto diversi mutamenti climatici portatori quindi anche questo va sottolineato ci sono in atto non siamo in una crisi climatica ma ci sono in atto mutamenti climatici portatori di fenomeni meteorologici estremi lo saranno bene le società assicurative impegnatissime nello studio del cambiamento climatico a causa dei sistemi dei premi d'altronde non c'è stata solo la tragedia dell'emilia in questi giorni in questi anni bisogna attrezzarsi ai nuovi livelli di piovosità cioè piovosità estreme ha ragione chi dice che in emilia romagna si è costruito troppo quello che si è detto in questi giorni è tutto vero ma riguarda l'intero paese abbiamo fatto un consumo del suolo sregolato non stiamo facendo abbastanza per ridurre le emissioni non siamo capaci di spendere i soldi disponibili per la manutenzione a proposito pare che ci siano sbagliati miliardi dedicati a rischio geologico se tutti non utilizzati come è possibile se si devono cambiare le regole lo si faccia il punto è che purtroppo la cura dell'ambiente non è stata la priorità della politica perché si pensava che la manutenzione ordinaria non portasse voti ma adesso è un'urgenza e le stesse amministrazioni devono intervenire sui territori non curati e che vanno gestiti in modo diverso ad esempio realizzando bacini e passaggi per difendere la nostra agricoltura dalla siccità o recuperando le aree cementificate ne va anche della nostra economia in quale modo la scelta sull'ambiente impatta sul nostro sistema economico la scelta di impegnarsi maggiormente per il clima e per l'ambiente è molto conveniente in termini economici investire sul fotovoltaico sull'eolico genera profitti e lo dicono tanti report che abbiamo fatto c'è voluta la guerra in ucraina la nesta crisi energetica per capire che se avessimo investito nelle rinnovabili saremmo stati un paese più forte più libero si tratta infatti di un'economia lungimirante ha quindi ragione l'europa con la sua agenda green si fa bene l'europea poi continuo vado più veloce ora ma l'italia è pronta per questa svolta le imprese italiane sì e la politica meno parla del vicepremiere ministro delle infrastrutture salvini secondo il quale una responsabilità di sasso emiliano e anche di chi ha detto sempre di no ma cosa si riferiva non lo so ma questo è uno slogan perché salvini fa solo propaganda questo ormai lo sanno anche quelli di destra che hanno votato la meloni e non lui quindi andiamo avanti come i negazionisti su clima cioè questi fenomeni vanno combattuti sono persone ossidate alla scienza che come lo sono i novax e hanno molto in comune dice realacci chiaramente io non sono d'accordo con questa posizione perché penso che i novax su molte cose invece abbiano ragione però lui è del pd quindi questo signore permette realacci quindi ha una posizione più verso il centro diciamo una politica di centro ci sono negazionisti del clima in questo governo bah è un fritto misto non ci sono pure gli ambientalisti più che altro a destra e non solo c'è la tendenza a cavarsela alla giornata trovando il nemico di turno quindi leggemonia comunicazione della destra ne ho già parlato crede che l'avvento della segretaria elish line possa portare un impulso alla gente ambientalista del pd vorrei che il tema ambientale non fosse solo uno slogan ma la chiave per costruire un un'economia più forte radicata e lei un programma di questo tipo ancora non ce l'ha faccio un esempio lei sta costruendo a catania più grande impianto per la restazione dei patenelli fotodottaici d'europa capaci di produrre da solo tanti quanti ne produrranno tutti gli altri paesi europei messi insieme e la prima lidere a capire l'importanza di questa struttura è stata ursola von der laia non un politico italiano io l'esponente del pd ci sarei andato la vedo critico sulla nostra classe politica problema che la nostra classe politica non vede le capacità dell'italia e la sua possibilità nell'economia green come mai un pezzo di opinione pubblica avversa la transizione ecologica temendo un boomerang economica secondo lei è un problema di percezione in un paese stanco e vecchio abituato a valorizzare i suoi difetti più che le cose positive e sul punto dico solo che un rapporto realizzato dalla nostra fondazione di bella che negli ultimi 5 anni più del 40% delle imprese hanno investito nell'economia green queste sono imprese che innovano di più ed esportano e fanno danno posti di lavoro non lo fanno per la sensibilità ambientalistica ma perché conviene economicamente aggiungerei quindi questa è l'alluvione e domani vi faccio vedere ora non ho più tempo vi faccio vedere anche un altro articolo preso dal tirreno che riguarda anzi ve lo voglio far vedere al volo subito quindi una in sintesi praticamente in sintesi l'intervento da parte dei grossetani dentro la questione saltando altre questioni a mio avviso meno importanti come già detto o meno comunque sia significativi ecco la questione ecco dei maremmani che sono andati la maremma si immobilita per salvare la romagna decine di squadre sono partite dall'intera provincia lavorano notte giorno e spalano e distribuiscono il cibo quindi questi sono i maremmani che qui si riposano in una fase di relax durante la questione ecco qui invece vediamo una fase operativa della 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 pulizia in emilia quindi alcuni maremmani sono andati e qui ci sono alcune testimonianze eccetera sono andati tra faenza forlì ravenna e cesena e sono al lavoro con la croce rossa e altre organizzazioni in tanti hanno perso tutto sono corsi ad abbracciarci racconto di daniele claudio al lavoro tra acqua e fango quindi ecco qua quindi anche i maremmani alcuni di loro legati comunque volontariato eccetera eccetera sono andati a contribuire a dare una mano per togliere il il fango dalla dalla situazione in emilia romagna vabbè grazie grazie per ora ci vediamo successivamente grazie a tutti grazie a tutti